L'alimentazione è il tema centrale di un convegno organizzato qui a Cesena, un'alimentazione che deve ripartire da zero, un'alimentazione evolutiva che ripercorre i passi dell'uomo e che lo vede procedere nella scala evolutiva del globo alimentandosi soltanto di elementi naturali, elementi sovvertiti con l'avvento dell'agricoltura. Perché promuovere un incontro di questo tipo e come si è articolato nell'arco di questa giornata? Si è articolato in una giornata in cui abbiamo invitato Giovanni Cianti a parlare di alimentazione evolutiva, a parlare e a mettere la pulce nell'orecchio per quello che riguarda la nostra totale dipendenza da alcuni alimenti come i propri cereali. Come scrivo anche nei miei libri, noi non utilizzeremo, pur essendo sanissimo, il merluzzo per sei volte al giorno, colazione, metà mattina, pranzo, metà pomeriggio e cena. Però ci viene spontaneo usare brioche di grano, farina a colazione, cracker a metà mattina da grano, pasta a pranzo sempre di grano, un tramezzino a metà pomeriggio e la pizza o nelle nostre zone la piadina o il pane serale. Quindi mangiamo grano ininterrottamente. Se è vero e pare che da ricerca e sperimentazioni sia vero il grano possa creare problemi all'organismo, siamo sicuramente in un'incidenza di rischio decisamente elevata che crea problematiche di salute importanti. Questa giornata è legata direttamente alla giornata successiva nella quale io e la dottoressa Francesconi ci occuperemo di organizzare e di creare, di spiegare che però dietro c'è comunque un essere umano. C'è una persona che potrebbe, come ha detto Giovanni Cianti poco fa, avere comunque una dipendenza reale dall'utilizzo di carboidrato e potrebbe non riuscire psicologicamente o affettivamente a vivere senza quella pietanza. Allora noi entreremo nelle implicazioni di quello che sono l'alimentazione incontrollata, i disturbi del comportamento alimentare e tutte quelle distorsioni del mondo moderno che portano la persona a pensare giustamente che se è stata una giornata non piacevole un bel pacco di biscotti può renderla migliore e però magari rendendo peggiore la salute.